Buonasera a tutti, questa sera vi salutiamo con un ospite straordinario, Mika, qui nel backstage del teatro. Backstage, backstage, backstage. E sta per partire la nostra quarta e ultima puntata, una sorta di restyling, restyling, una serata diciamo di divertimento con un po' di fashion. Perché spesso noi italiani usiamo parole inglesi anche quando c'è il corrispondente termine nella nostra lingua, no? Allora, perché non mi rompere il ghiaccio per cominciare la serata, vorremmo chiedere agli italiani di quali parole inglesi potremmo fare tranquillamente a meno. Mi aiuti? Sì. E allora, andiamo con la domanda. Quale di questi inglesismi ritieni inutile e insopportabile? A. Selfie. B. Business. C. Gossip. Gossip. Com'è? Gossip. 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 B. Trendy. Va bene così. C'è preso, questa volta c'ho preso. Dopo che ci devi cantare la canzone, eh? Sì, assolutamente. Bellissima, una poesia straordinaria. Grazie, Frizi. A dopo. Ciao. Come Frizi? No, Frizi. Frizi. Due Z. Frizi. Frizi. Frizi.